Qui a sinistra la casa di Leopold von Sacher-Masoch. Già si sente l'aria di ossessione. Figlio di un gendarme e di una nobildonna che l'ha fatto allevare da una nutrice russa per dargli vigore, qui ha sviluppato le sue fantasie infantili, che sono quelle che poi, quando è diventato romanziere, l'hanno ispirato. Nessun desiderio compulsivo di essere trattato male, anche il matrimonio è andato in quel senso, perché pare che picchiasse la moglie se la moglie si rifiutava la sera di fustigarlo. Da questo cortile è iniziata una storia, un modo di vedere che ha fatto il giro del mondo, dando un nome a un comportamento che a tratti ci riguarda tutti.